Capitano, le confermo che Ethan Winters è morto. Non ho recuperato il corpo, ma ho con me delle prove. Ti spiego tutto. Avvia la condivisione. Siamo stati molto avventati. Ieri abbiamo colpito Miranda mentre era trasformata, ma non l'abbiamo uccisa. Chi immaginava potesse fingersi morta? Miranda poteva avere infettato Ethan, quindi ho portato lui e Rose con noi. Ma il veicolo che li trasportava è stato attaccato. Quando sono arrivato, Ethan e Rose erano spariti. L'ultima volta che ho contattato Ethan, ho sentito la voce di Miranda. L'ha ammazzato e la pagherà molto cara. Porca puttana, quando finirà? Di che parla? Della missione? Di tutto. Da tre anni provo a chiudere questa storia. Le tre anni sono troppi. La fermeremo, capo. La squadra è pronta. Così, la BSA-A è già qui. Non hanno perso tempo. Il piano cambia. No, non c'è nessun cambiamento. Eliminare Miranda, né salvare Rose. Questa è la missione. Ed è vietato fallire. Buttiamoci nella mischia, gente. Proprio come ai vecchi tempi. Muoviamoci. Ricevuto. K-9, scopri che ci fa qui la BSA-A. Indaga, ok? Ok, ci penso io. È tanto che non combattiamo assieme, capitano. Quando è stata l'ultima volta? È il deserto? Facendo solo ricognizioni, sono fuori forma. Ma grazie a te, ora conosciamo il piano di Miranda. Non ci potevo credere che si fosse trasformata in mia. Prendersi cinque colpi in testa non è cosa da poco. Mi dà i prividi. Non ci potevo credere che si fosse trasformata in mia. ? P하게 sinnen justice. Un progetto笑are. Allora? Dec Going secondo. Questa cosa sei. Di loro andare bene? Questa sì. ehi alfa guardi qui la bsa stanno esagerati cristo c'è un bel casino lì sotto come raggiungiamo l'obiettivo innanzitutto sbarazziamoci di quella roba conti su di me capo brighiamoci attenzione alle armi biologiche ostili ricevuto contatto con un gruppo di armi biologiche ostili avvistato veicolo bsa due guardie non sottovalutarli che diavolo è quell'affare? mi mutamicete per ovunque dov'essere lì che si trova mirando andiamo arma biologica mutata avvistata anche loro tenevano d'occhio miranda avranno pensato fosse ora di intervenire capo sono io sono in postazione e mi preparo a stare fuori ricevuto ricevuto qui tundra capitano ha lasciato dei rifornimenti in una casa si serva pure si serva pure avvistata under eyes mi serve supporto avvisto 200 metri all'obiettivo rispondendo a 2 le 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 Non c'è nessuno. Grazie a tutti. 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 So che ormai... Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. e... per fortuna... a tutti. a tutti. a tutti. andiamo. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. ma... a tutti. a tutti. e... a tutti. a tutti. e... e... a tutti. e... sei... e... a tutti. tu... dovresti... e... a tutti. tu sei... e... 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 e...